Oggi la Camera di Commercio di Torino ha presentato il 26esimo studio sulla spesa delle famiglie torinesi. Sono state indagate 240 famiglie che hanno collaborato a questo studio annotando tutte le spese che sostengono. Abbiamo visto dei dati importanti per questo 2022 molto particolare, l'incremento della spesa dell'energia e dell'abitazione in generale, così come quella dei trasporti, che hanno visto una ricollocazione della spesa delle famiglie, che hanno ridotto il risparmio, hanno ridotto alcune voci di spesa come l'abbigliamento e i prodotti per la casa, ma hanno aumentato, l'unica voce importante, i viaggi perché dopo la pandemia le famiglie hanno voglia di uscire.